Ciao amici e benvenuti all'appuntamento con il tattico, il tattico è Luca Didio, ormai lo conoscete benissimo poi magari prendete anche i suoi consigli su fantacalcio che sono quanto mai preziosi è sempre prezioso perché ci becchi sempre, quasi sempre dai, ora sempre sempre no? quasi sempre sì però, anche con scelte umili e coraggiose sempre umili noi Fabio, noi siamo sempre umili voi prendete, come il tormentone, voi prendete, noi si prende loro prendono Dall'Inga, noi si prende Castra 1 è così oggi, anche se della maglietta non si direbbe, parliamo di Juventus inventiamo che è la sesta maglia la sesta maglia tanto ormai ce ne hanno sei, sette, quindi possiamo giocare con questa perché vogliamo cercare di capire come gioca Tiago Motta la mia premessa è che pensavo fosse bravo ma vedendolo in questo inizio, diciamo, di stagione lo trovo ancora più bravo di quello che pensassi perché riesce ad adattarsi, non ha un solo modo di giocare fa delle scelte importanti, gli allenatori che scelgono sono quelli vincenti sei d'accordo? Esatto fare delle scelte partita dopo partita, turnover però non un turnover esagerato e quindi da cosa vogliamo partire? La parte difensiva? sì, sta anche nella lettura delle situazioni di gioco che dà Tiago Motta e soprattutto nell'innovazione che sta portando partita dopo partita nella Juventus la Juve veniva da un ciclo con Allegri si trova un allenatore completamente diverso nel modo di giocare quindi con un attimo di pazienza la Juve sta arrivando a un gioco più fluido hai detto già una cosa importante perché nelle prime partite dopo gli 0-0 si diceva gioca come gioca Allegri in realtà hanno modi diversi di giocare, di essere propositivi tutti e due ottimi allenatori, intendiamoci però con modalità diverse partiamo dalla fase difensiva noi abbiamo fatto vedere al club un dato interessante cioè che la Juventus non è nelle prime posizioni anzi come pressione alta cioè il tipo di pressione della Juve non è fatto necessariamente alto ma è fatto soprattutto a un momento della riconquista cioè quando perde palla la prima riconquista che poi la regola base guardioliana diciamo è la cosa che funziona meglio nei primissimi posti nel campionato italiano e anche a livello europeo come si sistema la Juve dietro? Allora la Juve dietro intanto sulla prima pressione è una prima pressione equilibrata della Juventus soprattutto con grandissima attenzione alle marcature preventive cui Tiago Motta ovviamente lavora molto quindi essendo una pressione equilibrata lui comunque porta in fase difensiva Fagioli o Locatelli molto vicino ai due centrali si dispone con un 4 qua in mezzo con Kopp che arretra sulla linea dei centrocampisti porta Dusan Vlaovic sotto linea una palla una volta che la prima pressione è saltata loro indietreggiano e sono molto veloci a fare questo riposizionamento esatto automatico automatici perché comunque la prima pressione viene rallentata dalle marcature preventive che danno sulla squadra avversaria essendo delle marcature preventive ben coordinate ovviamente la squadra avversaria non trova sbocchi quindi magari fa un passaggio in più e loro indietreggiano e si posizionano in questa posizione qua le preventive che sono un elemento fondamentale quando difendi quando noi parliamo di squadre che prendono molti gol sulle ripartenze è spesso perché mancano le cosiddette preventive esatto marcano le preventive soprattutto le preventive possono essere anche coordinate a seconda di dove vuoi andare a fare la riconquista quindi una preventiva un po' più alta un po' più bassa e soprattutto se in quella zona del campo vuoi andare a fare un anticipo quindi ti rischi l'anticipo con una copertura sempre su una preventiva per andare a recuperare palla e verticalizzare parliamo di un giocatore che sta facendo benissimo mettiamo così e cioè di Calulu? Calulu è un giocatore fondamentale e soprattutto la scelta di prendere Calulu è perché comunque dà una chiara identità di Tiago Motta nel prendere Calulu giocatore è un giocatore molto funzionale può giocare esterno può giocare centrale ha grandissima capacità di anticipo e soprattutto è un giocatore intelligente anche in fase di impostazione dato il fatto che la partita col Napoli ha fatto registrare un dato molto importante 116 passaggi riusciti mai nelle prime 5-6 giornate nessun difensore l'abbiamo fatto registrare con una percentuale di passaggi riusciti intorno al 96-97% che vuol dire avere già una prima impostazione diciamo importante sì la Juve è una prima impostazione pulita e soprattutto non dà punti di riferimento agli avversari perché è molto dinamica cambia molto costruisce 3 più 2 2 più 1 2 più 2 a seconda della prima pressione avversaria a seconda di se la squadra ha un attaccante o due attaccanti quindi varia molto allora diciamo che la Juventus difensiva l'abbiamo spiegata è una squadra che cerca la prima riconquista se la prima riconquista non riesce ovviamente se riesce riparti e quindi va tutto bene ma se non riesce si ritrae con le preventive e riesce a fare molta densità risultato non gli segni mai la Juventus è difficilissimo segnare la Juventus come riesce invece poi a impostare il gioco perché anche di questo si è molto parlato visto che è sembrato avere un po' più di difficoltà quando si trova a difesa schierata cioè con una squadra molto chiusa come sviluppa la Juve? allora la Juve sviluppa intanto gli interpreti che possano modificare Ildiz o Mbangulà ovviamente cambia anche qui la predisposizione perché cambia il ruolo di cambiaso ma prevalentemente la Juve imposta sempre con un 3 che sono Calulu Gatti Bremer oppure Savona Calulu Bremer in questo momento qua alza cambiaso ma l'alza cambiaso in una posizione quasi da mezzala con Fagioli e Locatelli l'altro centrocampista che è McKennie alza Vlaovic e si predispone con 4-5 giocatori offensivi quindi è un 3-2-4-1 con Copp Miners Nico González cambiaso Ildiz sta di fatto che una giocata quando gioca Ildiz diciamo è anche il passaggio con Ildiz che viene a prender palla esatto e cambiaso che va a attaccare questo spazio qua quindi c'è molta c'è molto interscambio di ruoli tra cambiaso e Ildiz in questo senso qua quindi prevalentemente con Copp Miners molto vicino a Dusan Vlaovic Nico González che prende l'ampiezza a destra con sempre un 3-2 questo 3-2 ovviamente quando la Juve attacca la prima cosa che fanno i tre difensori già difendono con le manchiature preventive questo è un vantaggio ricollegandosi al punto di prima si era detto all'inizio che Vlaovic essendo un giocatore con caratteristiche molto diverse da Zierkse che era diciamo uno dei fulcri del gioco di Deago al Bologna avrebbe imposto qualche cambiamento in effetti qualche cambiamento c'è stato perché Vlaovic è uno che ricerca il tiro da fuori che va in profondità quindi ha caratteristiche diverse rispetto a quelle di Zierkse allora sì esatto quindi la Juve doveva sopperire a questa mancanza di gioco e l'ha sopperita con dei giocatori bravi anche con i piedi in tralline uno di questi io vedo sempre il cambiaso della situazione che mi gioca quasi avanzato oppure il cambiaso cambiaso che viene in costruzione si alza McKennie in questa posizione qua Cop Miners molto vicino qua o addirittura quando gioca a Bangula qua cambiaso va in ampiezza e Hildiz Coppainez Nico Gonzalez Savona e la Juve può costruire anche 2 più 2 se gli altri giocano con un attaccante solo esempio 4-3-3 quindi a questo punto qua ha 3 trequartisti dietro Hildiz che gli vanno un po' a ripercorrere quello che era il Bologna di Tiago Motta quindi ha trovato delle alternative quando ha difficoltà se la difesa avversaria è schierata è perché non ci sono le linee di inserimento per esempio per l'inserimento di Cambiasco ogni tanto va anche con la palla per cercare di creare l'uomo in più è quello che deve ancora forse ogni tanto diciamo migliorare per così dire allora quando trova delle squadre chiuse ovviamente che sono molto chiuse nella parte difensiva quindi nel suo primo offensivo quello che deve migliorare a mio avviso e trova più difficoltà è anche l'attaccante Dusan Vlaovic quindi sicuramente di venire più di raccordo e magari in te scambiassi magari con Copminers il Dizionnico in quelle posizioni lì per non dare punti di riferimento perché loro arrivano quindi da una posizione intermedia che dà più fastidio a una difesa sperata perché questo movimento ti crea diciamo un po' di distrazione se non altro ti crea molta distrazione poi la Juve è una squadra che come Tiago Motta ama a centro a sinistra quindi a centro a sinistra per poi fare cambi campo veloce contro squadre chiuse non so se ti ricordi Zizze in determinate situazioni dell'anno scorso con squadre chiuse veniva spesso a prendere palla e si invertiva molto con Ferguson Orsolini che rimaneva alto quindi ha cercato non avendo quei giocatori lì di ritrovare questi giocatori nelle caratteristiche dei giocatori attuali della Juventus e da questo punto di vista con Seisao con il dribbling secco che ha con l'uno contro uno è un giocatore lo si è visto in Champions ma anche in campionato è un giocatore che veramente può fare la differenza secondo me più di quanto lo faceva Porto esatto e anche lì con Nico González e con Seisao cambia perché con Nico González se uno che comunque vuole la palla nei piedi e può giocare anche tra le linee con Nico mi sfrutto Savona in ampiezza con Nico González mentre con Conseisao se hai visto lo fa giocare molto più aperto palla a sinistra cambio di gioco perché deve avere il tempo di primo controllo e puntare la difesa avversaria quindi quello che ha Tiago Motta che a seconda dell'avversario che trova a seconda dei giocatori che ha davanti crea delle situazioni attraverso magari degli intescambi dei giocatori o attraverso delle formazioni diverse cambiando esattamente qualche difensore o qualche funzione di qualche giocatore permette nelle condizioni di dare il meglio a seconda delle proprie caratteristiche che secondo me è un elemento fondamentale per un allenatore cioè essere in grado di modificare sia nel corso della partita sia diciamo la strategia all'inizio della partita a me è sembrato che il giocatore chiave comunque alla fine sia questo qua e cioè Copp Miners è effettivamente così? Allora sì e ho sentito anche diverse critiche su Copp Miners per le prime uscite della Juve perché comunque ho sbagliati la traversa di Genova il gol sulla riga sbagliato senza stare a vedere quello che Copp Miners riesce a fare cioè le letture nelle scelte della giocata di Copp Miners sono superiori a tutti i centrocampisti della Serie A perlomeno a gran parte ti faccio un esempio la giocata che ha fatto contro il Genova è da fuoriclasse perché lui era in questa posizione qua era orientato verso questa zona del campo con l'avversario che gli correva a fianco c'era Vlaovic che è andato qua c'è stato il movimento corretto di Nico Gonzalez Calulu che ovviamente ha liberato la corsia un giocatore normale trova questa giocata qua cioè questa su Calulu o questa in appoggio al limite o in appoggio lui addirittura cosa fa sterza quindi cambia posizione del corpo e postura e va a trovare con un passaggio questa verticalità qua questa giocata qua deriva da un calcio che lui ha praticato con Gasperini cioè trovare la soluzione più facile per andare in porta con meno passaggio possibile e anche la più diretta quindi la verticalità quindi il fatto che lui ha preferito quella giocata a questa sta di fatto che nella sua testa c'è la verticalità arrivo prima in porta da quella parte là ha fatto una giocata secondo me stratosferica che non è stata neanche valorizzata da tanti osservatori e la verticalità è un elemento fondamentale per cui la Juve poi se passa in vantaggio diventa mortifera diventa mortifera c'è un'area di più esatta sono gli segni in più gli acili verticali perché deve un po' i sporti e possiamo dire che potrà essere anche secondo me in Europa dove c'è più spazio rispetto a me per notare le squadre arroccate che trovi in Italia quella potrebbe essere anche decisiva no? potrebbe essere decisiva esatto potrebbe essere decisiva e soprattutto la consapevolezza che la Juve in Europa ci può stare ci può stare alla grande te lo dà anche risultati la vittoria di Lipsia non è un caso la vittoria di Lipsia ti dà morale ti dà autostima e soprattutto dà autostima a quello che è l'allenatore in panchina che ha fatto delle scelte a mio avviso coraggiosse che magari altri allenatori non le avrebbero fatte quando erano dieci quando erano dieci quindi espulso di Gregorio un allenatore diciamo il più degli allenatori toglie o Copp Meiners o con Seisau mette un centrocampista più difensivo come magari Douglas Luiz e non va a togliere come ha fatto lui Savona con McKennie che è da finto terzino perché fondamentalmente lui ha dato un segnale alla squadra che comunque anche in una situazione di difficoltà noi possiamo vincere la partita come poi è successo in realtà ultima domanda perché diciamo che in questo momento non c'è una vera e propria sostituzione di Vlaovic al quale auguriamo di continuare a segnare due gol a partita e di giocarle tutte però ogni tanto magari qualche riposo avrà bisogno e quale può essere la soluzione? Ildiz può essere la soluzione? potrebbe essere Ildiz in quella posizione cambia però il tipo di gioco cambia il tipo di gioco con Vlaovic ho più profondità con Ildiz ho più inserimenti magari dei centrocampisti degli esterni quindi somiglio più al Bologna dell'anno scorso diciamo più alla Ziergze un altro giocatore che può giocare in quella posizione lì secondo me anche migliore di Ildiz potrebbe essere anche Nico González che ha provato per qualche minuto esatto ha provato per qualche minuto nella Fiorentina ha giocato delle volte in quella posizione qui sicuramente la Juve deve trovare un'alternativa a Vlaovic perché Vlaovic c'è solo lui quindi secondo me finché non è verne Milik esatto quindi Nico González con Nico González o Ildiz cambieranno a mio avviso anche gli interpreti sotto punta le posizioni di Coppo Magari dando più spazio a Ildiz nella zona di trequartista perché se gioco con Nico posso giocare anche a Uldiz che mi attacca alle profondità Bangulada sugli esterni con Coppa addirittura in regia in tutto questo ti ha sorpresa a me sì la facilità con cui la squadra ha assorbito dei meccanismi diversi in relativamente poco tempo sì però c'è un fattore che comunque velocizza tutto questo processo l'entusiasmo dei giocatori nell'apprezzare il lavoro di Tiago Motta che propone sul campo quando c'è questo entusiasmo stima nell'allenatore e innovazione il giocatore è simile a prima e quindi è più propensa a farla vedere sul campo e io me ne sono accorto con l'abbraccio di Lipsia esatto quando tutti sono andati dall'allenatore premiandolo quasi delle sue scelte esatto e del fatto che stanno facendo una cosa in cui credono e quando si crede in quello che si fa i risultati arrivano i risultati arrivano grazie Lu